India, variazioni altimetriche, asfalto liscio ed un tratto misto molto impegnativo che richiede grande precisione di guida. Curva 4, staccata violenta a ruote dritte, chicane 6 e 8, doppio cambio di direzione con passaggio sui cordoli, curve 10 e 11 da affrontarsi con un'unica traiettoria. Curva 4, potente d'accelerazione da 320 a 90 km orari in 140 metri. I pneumatici sopportano un'accelerazione longitudinale di 3,6 g, pur garantendo stabilità e precisione per tutta la frenata. Chicane 6 e 8, il pilota sfrutta tutta l'ampiezza del tracciato e taglia sui cordoli stressando la struttura della gomma. I pneumatici anteriori assicurano grip e precisione per affrontare al meglio il cambio di direzione destra-sinistra ad oltre 200 km all'ora. Curve 10 e 11, doppia curva che impegna i pneumatici in laterale per oltre 7 secondi, ad essere più sollecitato e l'anteriore sinistro, che sopporta un'accelerazione fino a 4 g in uscita quando le gomme richiesta la massima aderenza per il controllo traiettorico. Asfalto scivoloso, varianti e curvoni ad ampio raggio. Pirelli propone le mescole hard e soft che assicurano la miglior combinazione di prestazione e durata per affrontare le caratteristiche di questo circuito.